mezz'ora di ritardo eh ma questa volta lo licenzio e fanno bene io non lo avrei mai neanche assunto tanto per quello che fa sì lo devono licenziare ciao sono io dove cosa fai ancora a casa che mi aspetta qui c'è ancora tutto da fare tutto da pulire che mi stai facendo venire il bantimare poggiami sul balcone ecco sì ma non così girami grazie immagino applicazione che forse sono entrato in contatto con una persona che in realtà forse è entrata in contatto con una persona che potrebbe che potrebbe che potrebbe essere entrata in contatto con una persona che potrebbe essere positiva e quindi che potrebbe essere positiva potrebbe sì no guarda non è una delle mie fidanzate di questo ne sono certo anche perché come le sai le faccio sottoporre a seri test sia sierologici che ginecologici ogni 24 ore ginecologici non è neanche uno dei miei figli ma se non hai figli bravo grazie in ogni caso non potrebbe essere uno di loro certo non hai figli sì quindi e spiega perché in realtà che questa persona con la quale sono entrato in contatto che forse è entrato in contatto con una persona forse forse è entrato in contatto con una persona che forse è entrato in contatto con una persona che potrebbe secondo grado positiva e questa persona è un mio collega di lavoro e vabbè che dobbiamo fare quindi smart working presidente e stico presidente certo certo va bene presidente immediatamente immediatamente John Fri John Fri tre caffè uno corto al vetro uno normale tazza piccola uno lungo e tazza grande è stata grande? no scusami Gianfranco fai la fretta ora ti devo lasciare perché devo vedere l'ultima puntata il mio segno improtolatino che sto seguendo almeno la mascherina potevi metterla ma guardate e vabbè alla fine era un collega di lavoro oh mamma no 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 Grazie a tutti